questa volta non vi parlo delle passioni degli italiani ma di una passione di team e di telecom italia il futuro loro sono proprio fissati lo sapevate che città dopo città stanno collegando tutto il paese con la loro rete in fibra che tra l'altro è la più grande così adesso possiamo navigare velocissimi e anche tutti insieme contemporaneamente scegli la fibra di telecom italia internet alla massima velocità il futuro è già qui ma che sembra più vecchio